La festa della rinascita. È stata chiamata così la riconsegna di uno dei simboli della città aquilana ferita dal tremendo sisma del 2009. Furono 309 le vittime, molte delle quali giovanissime. Dopo quasi dieci anni dal terremoto, la città si riprende un pezzo della sua storia e della sua identità. La riconsegna di una delle chiese simbolo del sisma, la chiesa di Santa Maria del Suffraggio, detta anche delle anime sante. Una struttura restituita alla città, ma soprattutto all'intero Abruzzo, grazie alla collaborazione del governo francese. La proposta, quella di far adottare un monumento aquilano da uno stato estero allo scopo di finanziare la ricostruzione, ha avuto per la chiesa del suffraggio una pronta risposta del governo francese, che affiancata dall'intervento dello Stato italiano tramite il Ministero dei Beni Culturali, ha avviato un sodalizio istituzionale a tutto vantaggio della città dell'Aquila, del suo popolo, della sua cultura, del suo patrimonio monumentale e particolarmente del suo patrimonio spirituale. A sottolineare l'importanza dell'evento è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto marcare la sua presenza partecipando alla cerimonia e visitando l'interno della chiesa assieme al Ministro degli Affari Esteri francese, incaricata per l'Europa, Nathalie Louisot, che ha partecipato oggi alla festa della rinascita. Il capo dello Stato si è fermato nella cappella delle Memoria, dinanzi alla pietra, dove sono incisi i nomi delle vittime del sisma, sfogliando il libro che contiene le loro foto. Fuori dalla chiesa tanti cittadini e quasi mille bambini che hanno lanciato in aria numerosi palloncini nero-verdi, i nuovi colori della città. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità civili e religiose, per la Regione il Presidente Giovanni Lolli e il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Nutrita la presenza dei consiglieri regionali abruzzesi, dal Vice Presidente Lucrezio Paolini e Paolo Gatti, l'Assessore Lorenzo Berardinetti, per passare a Pierpaolo Pietrucci e Alessio Monaco. Il Presidente Di Pangrazio ha voluto esprimere la gratitudine della Regione Abruzzo al Governo di Francia per il fondamentale contributo offerto per la rinascita della città dell'Aquila, che oggi aggiunge un giorno di felicità alle sue pagine di storia. Anche il Palazzo dell'emiciclo, sede del Consiglio addetto di Pangrazio, era stato distrutto nel drammatico sisma del 2009 ed oggi è rinato mostrandosi come segno di rinascita, dignità, orgoglio e fatica. Giornate come questa sono importanti perché lasciano in noi il sentimento di aver ricevuto dei messaggi importanti, messaggi che lasciano un segno che tutti noi porteremo nell'impegno sociale, nella nostra esperienza di vita, nel nostro futuro.